ciao ragazzi bentornati tra noi io sono andrea team malati di pesca oggi provvediamo a fare l'unboxing è arrivato un pacco vediamo che cosa c'è dentro il corriere è appena arrivato curiosi andiamo a guardare ed eccoci qua controlliamo cosa c'è dentro eccoci qua abbiamo fatto un po di scorta ragazzi abbiamo fatto giusto giusto un po di scorta perché possono sempre servire vediamo tutti i modelli diciamo che lo spinning può avere qui c'è lo scontrino spinning può avere inizio a presto ragazzi ci si becca in pesca